Potente appara ragazzi, qua è Axel, oggi è Omega, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi questo nuovo video Che ragazzi, allora innanzitutto sono stra senza voce, infatti ho difficoltà a parlare, infatti mi fa un po' male la gola Però io vi avevo promesso un video ed eccolo qua E oggi, anzi no, poi vi volevo ricordare come sempre di passare da onefifa.com se siete interessati a un break di FIFA E mi raccomando, utilizzate il codice Axel con due come discount code Ed eccoci qua a presentare un nuovo video che è un nuovo Pink Pala Infatti il secondo Pink Pala di FIFA 15 ed è il Pink Pala di un giocatore abbastanza importante Infatti sto parlando del Pipita Higuain in forma, valutato 85, pagato la bellezza di 82.500 crediti E ragazzi, ora voi starei dicendo, beh non costa tanto, però vi posso assicurare che nel prossimo mese, o meglio in questo mese Arriveranno sicuramente Pink Pala più costosi E ragazzi, questo Pink Pala sarà il primo di una lunga serie nella quale utilizzerò un regolamento diverso Perché quando andrò a twittare su Facebook, voi vedrete come post appunto inerente al Pink Pala Un post con un regolamento abbastanza differente Perché, o meglio, andiamo ad analizzarlo Innanzitutto, per prima cosa, dovrete sempre aggiungere il mio account, che infatti si chiama AlexAzo Ma come seconda cosa, non dovrete più invitarvi come dovevate fare negli scorsi Pink Pala Bensì dovrete commentare il post della pagina Facebook, quindi mi raccomando andate sulla pagina Facebook Se no non potete partecipare Commentarlo scrivendo il vostro gamertag Una volta fatto ciò dovrete aspettare Io proprio a caso, anche perché non conosco tutta la gente che partecipa, ne andrò a scegliere uno Andrò ad aggiungere quella persona Ci parlerò un attimo, andremo a disputare la partita Faccio questo cambiamento perché, infatti, con il nuovo FIFA Non si può più invitare un giocatore che non si aveva tra la lista amici E quindi è una cosa abbastanza strana Detto questo, non mi sembrano altre cose da dire Vi ringrazio, come al solito, per il sostegno Visto che non è il video di Halloween Bensì quello prima, ha praticamente raggiunto i 5000 mi piace Sono davvero felicissimo Quindi, ragazzi, grazie mille Se vi va, lasciatelo anche in questo video Così per farmi tornare la voce Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi Allora, per questo pin vale, io andrei ad estrarlo O meglio, a scegliere il primo che ha commentato Quindi, in questo caso, Daniel Bartolini Chiamato anche Temporary Whale Quindi, andiamo ad aggiungerlo E ragazzi, non l'ho detto Tra le regole c'è anche quella di utilizzare i Kinect Perché se non si ha il Kinect oppure un dispositivo per parlare La vedo molto dura a mettersi d'accordo Quindi, devo cambiare sfidante Il nome più facile dopo è il suo Credo sia quello di Andrea Borroni Quindi, andrò ad aggiungere DeAndreae E ragazzi, con DeAndreae Dovrebbe essere giusto così Sono riuscito a comunicare Ci siamo messi d'accordo O meglio, gli ho solo spiegato come funzionerà la cosa Quindi, andremo a giocare Nel caso in cui io vinca, non succede niente Nel caso in cui vinca il mio sfidante Quindi, in questo caso, Andrea Io dovrò andare a vendere i Kinect E a dargli crediti contenuti vendendo i Kinect Molto easy la cosa Ed ecco quella della squadra So che ha 96 di intesa Perché ha sciurre il magico gelataio E' tornato gelataio Me ne so scordato di dirlo Appunto, Shuree non ha 100 Non ha 9 Però, Trank Utilizza lo stesso questa squadra Comunque, l'abbiamo invitato E mi vorrei un attimo scusare Perché sto facendo questo pin-pall Magari in un orario in cui c'è poca gente Anche se per me c'è comunque un macello Perché, infatti, è sabato Io oggi non sono uscito Perché sono uscito ieri sera E ora sono stanchissimo Come potete anche sentire dalla voce Comunque, aspettiamo lo strossitante Che è già arrivato, credo Ed eccomo qua Quindi, andiamo a giocare Contro le Andreae Che è un nome da bomba È un bel nome Uno di latenza Quindi ottima connessione È la mia prima volta che Scusate È la prima volta che utilizzo Il 4-1-2-1-2-1-2-2 Su questo FIFA E la sua squadra Ha un qualcosa di buggatissimo E fortissimo Contemporaneamente Aiaiaiaiai Madonna Iniziamo già malissimo È rigore Di santo quanto lagga È rigore o no? Cosa? Cosa? Rosso? Non mi fanno neanche vedere il replay Oh ma sono ubriati gli arbitri in questo gioco Come fa a essere rosso? Intanto bravissimo Mertens Madonna lagga veramente da vomitare Inghiella nausea Però Il Carlitos E siamo lì Il gelataio Il gelataio Il gelataio Vedi Guain Finta Altra finta Contarito No Parata Dai Tevezino Dai Tevezino No Cos'è? Dai Quanto lagga Bravissimo Tevez Che vede Mertens No dai Oh Sì vabbè Dico di passare La passa 6 anni dopo Eia vabbè Oh si saltano 4 frame Alla madonna Vedo il giocatore al centrocampo poi in mezzo No eh E va bene Fa schicchia Non gli ho detto di fare Pro di scarta Bravo Ma Dio santo Buono Zitti tutti Fermi tutti Che là c'è il gelataio Che avanza Il gelataio No Mannaggia L'ha visto Carlitos The Bad 1 a 1 La vista è buona Bravissimo Carlitos E scarta 2 No E vabbè No 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 E' agghiacciante E' agghiacciante Lagga troppo Però Magari faccio anche Adora so che fa gol Bravo Desten Bravissimo C'è il Fellaini No E c'è il gol Il bebita Higuaín Gonzalito Ci portiamo in vantaggio Yes E' campo aperto Per No Il fella Il fella Perché lui Ci stava Ci stava Carlitos E' agghiacciante Il bambino E' agghiacciante Dio cristallo Dio cristallo Dio cristallo Bella la connessione Sì 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 Oddio cappuccino Don Gabugino No Dio Fuori gioco Yes Yes Secondo tempo Secondo tempo Non molto entusiasmante Qua al Non so che stadio sia Ecco l'ho detto E ora lui mi fa Gol Giustamente Oddio Il rami della situazione E ora si riparte Col gelataio San Montana Gelatone Schurle Il frappè Il frappè Il frappè Tiro di merda Dovrò smettere Di fare sta battuta Intanto Li fa ubriacare Il Gonzalo Coca Malibu E via Via Bella Bello Crater Mattes No Che Intanto Ridendo e scherzando Siamo arrivati All'ultimissimo minuto Allora Si mi fa gol adesso Ha delle Possibilità Di Dicevo Cosa Ed è finita E abbiamo vinto Anche questo Secondo Pink Pala Quindi Devo dire Che sta andando Abbastanza bene Adesso io credo Di andare a vendere Subito Guaim Perché Non mi è piaciuto Assai Deve essere Veramente forte Come anche Il magico Gelataio Schurle Forse poco Di fisico Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare un bel Mi piace Un bel commento Facciamo così Per avere Nel prossimo Pink Pala Un giocatore Da 200.000 Credito O superiore Appunto Questo video Deve raggiungere I 3500 Quindi Mi raccomando Lasciate un bel Mi piace Mi piaciate E lasciato O anche un bel Commento Se ci siete Passate al secondo Canale Se siete interessati A vedere ogni mio giorno Una sorta di Mini pack opening E detto questo Io vi saluto E vi dico Potente A Pala E se nel prossimo video Ciao a tutti Mamma mia Non ho più voce E se nel prossimo video